Allora apriamo il Consiglio Comunale, buonasera a tutti. Purtroppo dobbiamo fare un annunzio da subito che non mi sarei mai aspettato di dover fare, visto che nel ventunesimo secolo si pensava di essere fuori da certe problematiche. Invece ci siamo capitati dentro, oltretutto una storia che ci coinvolge tutti personalmente perché succede qui nel cuore dell'Europa. Forse quando succedeva da altre parti del mondo erano più lontane, quindi sentivamo meno la pressione magari di queste guerre, anche se ci sono sempre state nei diversi punti del mondo. Però chiaramente questa ci colpisce tutti e sappiamo che in queste ore stanno dialogando, speriamo che trovino una soluzione a questo conflitto che non ha nessuna giustificazione. quindi chiedo a tutto il Consiglio Comunale di alzarsi un attimo in piedi e di fare un minuto di silenzio per le vittime che purtroppo causano queste guerre. Grazie. 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 Come vi dicevo, non ci saremo mai aspettati di dover affrontare in Consiglio Comunale un argomento di questo genere, ma chiaramente sta succedendo quello che appunto nessuno pensava e quindi abbiamo pensato come Consiglio Comunale di aggiungere un punto che è chiaramente un documento, una delibera che verrà votata qui nel nostro Consiglio dopo chiaramente una discussione anche con voi. Noi abbiamo cercato di riassumere quello che era il nostro pensiero, anche così ragionando su quello che poteva essere un intervento da subito efficace. Quindi è anche una preghiera ai nostri governanti di fare presto e quindi io vi chiedo da subito una votazione per spostare i punti all'ordine del giorno e quindi il primo punto sarà questo della delibera numero 21 del 28.02.2022 che avete ricevuto in coppia questa mattina e gli altri punti si scorrono, praticamente il punto 1 diventa il 2, il 2 diventa il 3 e si scorrono in giù. Quindi col segretario che annota questa decisione, insomma questa votazione, passiamo alla votazione stessa. Scusa, è spiacevole fare questo intervento in un momento che veramente... Prego, bisogna presentarsi e registrare. No, no, basta schiacciare il bottone. Ok, lo avevo schiacciato, forse è la mia voce. Allora, no, volevo dire che la guerra è cominciata il 24 febbraio. Capisco la straordinarietà, però mi sarei aspettata per galateo istituzionale, secondo me, e anche per dimostrare l'atteggiamento ecumenico di questo Consiglio, che anche stamattina in via straordinaria, i consiglieri fossero coinvolti nella stessura di questo documento, in modo da non dover semplicemente prendere atto e approvare. Forse potevamo dare anche noi... Possiamo discuterlo anche adesso. Eh? Possiamo discuterlo. Ok, va bene. Allora, io non ho... Io apro una discussione, lo leggo e apro una discussione. Perfetto, per dire, anche quando c'è stata la preghiera davanti al municipio, se ci fosse stato, avete i nostri numeri e indirizzi mail. Bastava un'email, io non è che sto sempre attaccata a leggere quello che scrive Poltronieri, quello che scrive il sindaco, sinceramente ho anche una vita privata, mi interesso anche, leggo, faccio altre cose, ho famiglia, eccetera, eccetera. Però sarebbe stato un invito, perché io penso che per la popolazione, vedere i cittadini di... non solo i cittadini, voi avete invitato la cittadinanza, ma è giusto, certamente, però se fossero stati invitati anche con una mail che arriva in un secondo, come avete fatto oggi per questo documento in via straordinaria, di dire ai cittadini di minoranza partecipate, perché sarebbe stato un bel modo di esserci tutti insieme, io sarei venuta, io non l'ho visto, non sono venuta, non per essere arrogante, perché non condividevo, al contrario, se fossi stata invitata, non con un cartoncino, chissà cosa, bastava una mail e dire, consiglieri, noi ci riaduniamo, vi invitiamo a partecipare. Questa è la bella politica che porta la cittadinanza ad essere, cioè non possiamo essere ecumenici solo per le guerre, dobbiamo anche tra di noi considerarci non dei nemici, ma degli avversari e quindi rispettare, secondo me, un galoppio istituzionale. Se ci fosse arrivata una mail, sarei venuta e con voi avrei partecipato con sentita sensibilità, perché lo sento anch'io questo problema, anch'io per dire, anche noi come gruppo abbiamo fatto un documento, non l'ho inviato perché ho detto sicuramente non verrà accettato, però, allora, io, siccome non ho neanche letto il vostro documento, perché me ne sono accorta, un quarto d'ora fa ho letto le mail, perché facevo dell'altro, insomma, allora, per carità, uno non è che può stare attaccato, ma questo non è un rimprovero, sto dicendo semplicemente che forse bastava chiamarci e dire, contribuite anche voi alla stessura di questo documento, sarebbe stato bene. Andiamo al posto e ricominciamo da dove c'eravamo interrotti. Nel frattempo è arrivato anche appunto il comunicato dei consiglieri di Biasi. Allora, dobbiamo votare per lo scorrimento dei punti all'ordine del giorno. Prego. Se voli, non lo so, prima da fare lo scorrimento dei punti, la votazione. Possiamo concludere quello che stavo dicendo? Devo concludere. Ah, non avevi concluso, scusa. Allora, per carità, non voglio... No, 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 era scattata la corrente. Non voglio assolutamente riprendere di nuovo il tema, perché rischerei anche un po' di appesantire. Ecco, il problema, dicevo, che sarebbe stato molto più ecumenico da galattia istituzionale coinvolgere non solo nella discussione, nella presa d'atto e nell'approvazione, ma coinvolgere i consiglieri di minoranza nella stessura del documento stesso. Bastava chiamare i responsabili, i capigruppo e... Eh, non sappiamo bene i capigruppo quali siano... Comunque, comunque, non è il momento assolutamente di... No, dico, ci sono più capigruppo, però magari te non ti chiamavo, perché non ho ancora... Non sono stati chiamati, comunque. No, dico, tra tutti i capigruppo non ti avrei chiamata comunque, perché andiamo a discuterlo dopo il tuo inserimento. Non è tanta importanza, questo. È importanza, sì. Dici, non mi hai chiamato, ma io non ho il tuo nominativo. Io ho il nome della Zada Perini che era presente. Io non ne sto facendo un problema personale. Spero di no. Siccome non c'è ancora la presa d'atto, è chiaro che non avresti chiamato me, ma il problema era coinvolgere la minoranza. Questo era il problema. La Zada Perini c'era. Zada Perini è della minoranza. Era presente. Di cosa sta parlando? Io sto parlando del comunicato alla guerra. No, perché stavi parlando della serata... No, allora... No, non lo so, allora ci siamo inzampati sul discorso. Pensavo della serata, mi scuso, della serata, ma è stata organizzata nel giro di un'ora. Io sto dicendo, certo che la Zada Perini c'era, non c'è problema, mi fa piacere, evidentemente, lei è più presente sui social, io no, posso anche non essere così presente sui social. Basta invitare attraverso una mail e io sarei stata presente per dire, io questo comunicato, voi l'avete mandato alle 13 e io l'ho letto un quarto d'ora fa. Non è che tutti quanti stiamo sempre, io non ho, io non sono una diciottenne o una trentenne che come protesi ho il mio cellulare o internet. Io uso anche altri algoritmi, vero? Quindi posso anche fare a meno per due, tre ore, quattro ore o per un mezza giornata del cellulare. Non è che devo stare sempre collegata. Ecco perché esistono le mail, perché l'email mi manda la notifica e io vado a guardare per dire, comunque non è il momento di fare polemiche in un momento del genere. Stavo semplicemente dicendo che l'invito attraverso una mail sarebbe stato, sicuramente avrebbe assicurato la presenza di tutti e chi non veniva se ne sarebbe assunto la responsabilità. Lo dico perché mi è dispiaciuto non esserci, perché si tratta anche di galatea istituzionale, l'ABC, insomma, vabbè. Sì, l'ABC, ma avremmo dovuto telefonarti, non mandarti le mail, perché hai già detto che tu la mail non hai visto neanche quella di stamattina, no? Eh, vabbè, dai. L'abbiamo organizzata nel giro di un'ora. In un'ora abbiamo invitato le persone, se volevano fare una preghiera, davanti al municipio. Ne faremo delle altre, tante altre, spero di no, ma può darsi che le facciamo, e sarai sempre invitata. Dimmi te con che mezzo devo invitarti. Se vuoi ti chiamo, ti mando una mail, se preferissi una mail mandiamo quelle. Poi, però, se le avete sul telefonino, le guardate subito. Ma come mi dici te, hai visto la mail stamattina alle 11, allora alla fine non andava bene neanche la mail. Vediamoci conto che la guerra è scoppiata il 24, e voi questo comunicato lo potevate fare anche ieri. E forse io ieri avrei avuto sicuramente il tempo di leggerlo, non leggerlo un quarto d'ora fa. Comunque, era una considerazione non polemica, ma voleva semplicemente far presente che si può anche coinvolgere la minoranza, soprattutto in un momento del genere. Comunque, siccome apriamo dopo la discussione, riprendiamo l'argomento se volete. Vabbè, allora hai finito l'intervento? Ho finito. Bene, grazie. Consigliere Montemezzi, avevi qualcosa sui punti all'ordine del giorno? Ma non lo so, votiamo i punti all'ordine del giorno, allora, ok? E partiamo con questo argomento, perché se sono tutti attinenti, dopo li votiamo alla fine, mi sembra non corretto. Giusto, segretario? Modifichiamo l'ordine del giorno. La parola può levarsi la mascherina in quel momento, ok? Va bene a tutti? E se no ci troviamo senza voce, anzi io ne ho già poca. Prima, fra mezz'ora non vediamo più. Allora, leggiamo la proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 21 del 28.02.2022, documento di ferma condanna all'invasione russa in Ucraina e di iniziative di solidarietà per il popolo ucraino. Oggetto, documento di ferma condanna all'invasione russa in Ucraina e di iniziative di solidarietà per il popolo ucraino. Premesso che la Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 11, recita L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa di libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie all'ordinamento ed assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. La crisi ucraina di queste ore sta destando grande apprezzione e angoscia nella comunità internazionale e rappresenta uno degli eventi più drammatici della storia recente dell'Europa. L'invasione dell'Ucraina avviene in spregio ai valori fondamentali della nostra Costituzione che ripudia ogni guerra come strumento di offesa alle libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Non diversamente l'autonomia unilaterale di aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina e viene in spregio al diritto internazionale come strumento di risoluzione giuridica dei conflitti. È necessario che la comunità internazionale reagisca in termini proporzionali all'offesa e alla tutela dell'indipendenza e dell'individualità dell'Ucraina. È necessario intervenire in termini di cooperazione internazionale per scongiurare la prevedibile catastrofe umanitaria ai danni della popolazione civile ucraina. Il Consiglio Comunale condanna con ogni misura ed ogni sede internazionale l'unilaterale aggressione militare russa perpetuata ai danni dell'Ucraina. Richiede che l'Europa e gli Stati membri coordino un intervento umanitario per l'accoglienza dei profughi ucraini a seguito della guerra che sta frazzellando la popolazione. Chiede al Governo italiano di supportare in ogni modo il legittimo Governo ucraino a difesa dell'indipendenza del Paese. Chiede al Governo italiano di garantire tempestivamente lo stato di rifugiati ai cittadini ucraini che ne facciano richiesta. Si impegna a mettere in atto fin d'ora tutte le iniziative di solidarietà possibili per testimoniare concretamente la vicinanza al popolo ucraino, a collaborare con le autorità competenti organizzando anche nel Comune di Nogara un sistema di accoglienza per i profughi ucraini di trasmettere il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Proposta di Libera del Consiglio numero 21 del 28.02.2022 Comune di Nogara. Noi abbiamo fatto questo documento che sintetizza quello che è il nostro pensiero di ferma condanna a questa inutile guerra fatta ai danni della popolazione e dello Stato libero dell'Ucraina. La storia dell'Ucraina è praticamente una storia di conflitti e di invasioni e quindi il fatto che con un nuovo Presidente giovane ci sia la volontà da parte di giovani di instaurare un sistema diverso rispetto a quello che era in atto ormai da tantissimi anni a favore della Russia ci fa pensare che se i giovani prendono in mano la loro vita e vogliono cambiare il sistema in uno Stato, lo Stato deve essere considerato libero. Il Presidente ha vinto con più del 70% di consensi, il suo popolo è con lui e quindi questa invasione ci crea ancora più imbarazzo perché stiamo analizzando una situazione veramente paradossale. Sapevamo che i russi si stavano preparando il confine avevamo visto che praticamente la Russia stava preparando un'invasione ma nessuno avrebbe mai creduto che si realizzasse veramente speravamo sempre nel dialogo pensavamo che il dialogo potesse portare una soluzione diversa e quindi non si arrivasse mai al conflitto è anche vero che negli stati di confine del Donbass ormai si combatteva da otto anni ma era una cosa che chiaramente ci fai quasi l'abitudine ci fai quasi il callo e non pensi che poi la storia prenda un'altra piega hanno atteso la fine dei giochi olimpici invernali della Cina per scatenare l'inferno con una Cina che poi è diventata amica anche della Russia questo ci fa pensare ognuno qui, ognuno di noi avrà un'idea io ho visto sui social che leggo ogni tanto che alcune persone sono a favore altre meno anche rispetto alla figura di Putin che non sta uscendo bene chiaramente da questa storia ognuno ha la sua idea e si può discutere e portarla avanti per carità ci mancherebbe però quello che vuole esprimere il documento è che dobbiamo fare presto per aiutare gli ucraini perché la popolazione civile è quella che ci sta rimettendo di più abbiamo dei cittadini di Kiev e di altre città che sono prese da sedio che non possono più lasciare la città perché le strade sono state distrutte gli aeroporti non funzionano sono stati i primi ad essere bombardati e quindi il traffico ferroviario è praticamente assente parlo da Kiev poi magari è presente in qualche altra città ma lì non c'è più e il mio pensiero è andato anche alle popolazioni ai ragazzi, ai giovani a un ospedale che è stato messo a punto è stato costruito negli anni dopo Cernoby ricordiamo che Cernoby nell'86 ha creato un disastro anche allora a livello europeo diciamo anche tra virgolette mondiale perché non si capiva perché motivo è stato tenuto nascosto poi per parecchio tempo quindi anche non siamo riusciti a prendere le giuste contromisure appunto perché si tentava di nascondere tutto abbiamo degli stati tipo la Russia e la Cina che nascondono tantissimo di quello che fanno soprattutto quando provano gli armamenti o quant'altro quindi anche Cernoby si è tentato di nascondere e poi abbiamo visto i danni che ha fatto e che sta ancora facendo perché siamo la terza generazione e ancora nel feto il bambino sviluppa delle problematiche dovute a Cernoby anche nel nostro territorio l'inquinamento che c'è stato soprattutto sui prodotti che allora non si sapeva si cercava di lavarli ma più di tanto qualcosa rimaneva attaccato ha creato dei danni anche qui il problema dei tiroidi per esempio non era così intenso 30 anni fa come adesso quindi questo ospedale di oncologia che è un ospedale che ho visitato grandissimo purtroppo vede molti bambini molti ragazzi che sono affletti appunto da tumori quindi un ospedale oncologico sempre pieno purtroppo e sentire le notizie che quelle che sono filtrate insomma è stato parzialmente bombardato mi ha spezzato il cuore anche perché alcuni fondi per la costruzione di quell'ospedale sono arrivati proprio da qui dal nostro territorio da Isola Scala e pensare a questi ragazzi che dovrebbero essere curati e che invece suonano i rifugi pensiamo agli anziani pensiamo alle persone che hanno difficoltà a muoversi pensiamo a una città che quando suona la sirena le persone adesso c'è il coprifuoco quindi per strada non c'è quasi nessuno ma le persone dove si trovano devono andare nel rifugio e nei rifugi non c'è posto e quindi rimangono nelle case non abbiamo ancora visto l'avanzata con gli aerei perché ricordiamo che i bombardamenti avvengono da terra oppure da mare oppure con i razzi però non abbiamo ancora visto in opera l'aviazione questo è un bene finora perché io penso che con gli armamenti che ha la Russia chiaramente si metterebbe un attimo anche a sparsare via alcune città come Kiev ecco quindi io spero vivamente che una soluzione a questo problema lo si trovi col dialogo lo si trovi magari con questo tentativo che hanno fatto anche oggi che verrà ripetuto anche da quello che si sente adesso in notizia anche nei giorni futuri però chiaramente la situazione non è rosea e bisogna bisogna reagire aspettarsi anche il peggio se poi non arriva il peggio meglio ecco perché il documento è stato fatto magari anche in fretta ma è stato fatto con l'intenzione di dare subito aiuto e di dire anche a Roma ai nostri governanti che le persone che arrivano da quella nazione vengano considerate insomma persone che scappano dalla guerra cosa che adesso non potresti fare se non viene votato e poi c'è tutto un discorso di chiaramente di accoglienza che da questa anzi da ieri si sta tentando di fare anche a Verona quindi il fatto poi di aver fatto questo documento di averlo mandato e di metterlo in discussione questa sera penso che siamo anche tra i primi chiaro che la guerra non è iniziata ieri mattina però io vi dico che da quando è iniziata che ho dormito pochissimo perché vabbè per cose mie l'affetto che io ho verso quel territorio è abbastanza grande e da molti anni noi stiamo aiutando l'Ucraina come associazione è chiaro che l'accoglienza in questi territori è stata portata avanti da allora anche Nogara nei primi anni dopo Cernobi e penso con Vittoria che forse era assessore o consigliere adesso non ricordo comunque si è tentato quel cammino anche a Nogara però si sono portati dei ragazzi della Bielorussia scusate la situazione della Bielorussia è completamente diversa da quella dell'Ucraina e infatti qui almeno questo è quello che mi hanno raccontato si è fatta l'accoglienza per un paio d'anni poi si è sospesa perché arrivavano purtroppo persone che non avevano bisogno di fare le vacanze qui erano figli magari di politici o diplomatici mentre l'accoglienza che si fa adesso è con diciamo un'associazione di Chieve che si chiama Corda che collabora appunto con Amici del Mondo che è un'associazione Isola Scala è una delle poche che è rimasta comunque e che va nei quartieri poveri dove c'è effettivamente bisogno dove ci sono situazioni appunto di povertà e quindi non c'è la possibilità di bambini di respirare aria sana ricordo che fino a qualche anno fa in Ucraina non si potevano mangiare i funghi tanto per dire com'era inquinato quel terreno vedere i carormati di avvicinarsi a Chieve e poi fare un po' di guerriglia nei pressi dell'ex centrale che adesso il reattore è isolato da una cupola di cemento ma che può arezzere a malapena le intemperie ma non penso le bombe mi ha messo l'altra mattina i brividi ve lo dico sinceramente perché sapere che lì può cadere una bomba magari anche per sbaglio comincierebbe ad essere comunque un disastro che avviseremo anche nel nostro territorio ecco si pensava di non vedere mai le guerre questa è stata la realtà io capisco che uno può essere più sensibile o meno capisco che a volte quando si prendono le decisioni si può essere si può avere la vista di invitare tutti di non invitare nessuno si prendono le decisioni così veloci è chiaro che questa cosa però non è stata ponderata con il giusto i tempi perché sta andando tutto troppo in fretta nessuno si aspettava mercoledì mattina le bombe alle 5 e mezza da mattina io le ho sentite praticamente in diretta e non è piacevole non ci volevo credere ecco quindi capisco tutto prendete questo documento come un documento presentato da noi e chiaramente valutato e discusso da tutti qui tutti possono parlare fare una riunione per fare un documento tutti assieme a volte si può fare a volte no in questo caso comunque ho preferito portarlo in consiglio discuterlo subito e votarlo perché è quanto mai necessario far sentire anche la nostra voce può essere tutto può essere niente io dico da una preghiera per chi è credente a una bandiera all'inominazione di un palazzo a un corteo a un scendere in piazza a far sentire che ci siamo comunque anche agli ucraini penso che sia un segno chiaramente per chi è in grado e qui tutti noi siamo in grado volendo possiamo anche ospitare perché c'è necessità adesso sono già fuggite dall'Ucraina 500.000 persone alcuni avevano già la collocazione sapevano già dove andare a Negrara questa mattina tramite Don Calabria sono arrivati i primi profughi anche loro sapevano già dove andare altri a Treviso insomma nei territori dove avete visto in Italia perlomeno arrivare i profughi è perché avevano già una destinazione prefissata anche con queste associazioni se si riesce a portare fuori la gente da Kiev ripeto se si riesce perché attualmente le città sono completamente isolate non ci sono mezzi di trasporto pubblici quelli che avevano una macchina sono già scappati e quindi il grosso problema che avremo andando avanti non è tanto recuperare le persone al confine quanto quelle di entrare ad aiutare le persone che non riescono a muoversi da casa penso agli anziani penso alle persone con handicap penso ai bambini che hanno problemi tipo quelli che erano appunto all'ospedale e lì diventa problematica la storia ecco ci sarebbe chiaramente tanto da dire io non voglio togliere assolutamente tempo anche i vostri commenti poi mi riservo di riprendere anche la parola insomma visto che si può dialogare su questo volevo solo dirvi che ci siamo già mossi e ci muoveremo anche come singoli comuni appunto per creare le condizioni di ospitalità la prefettura sta rispondendo un po' rilento secondo me perché chiaramente deve sentire il ministero degli interni e il ministero della sanità uniti con la protezione civile per creare le condizioni per questa accoglienza e poi dialogherà nella giornata di mercoledì con i sindaci del territorio che si faranno carico attraverso gli uffici penso del sociale insomma dei canali che possono avere i singoli comuni di creare le condizioni per cercare di fare un'accoglienza ragionata perché chiaramente finché si fa accoglienza di un minore e c'è il tempo per fare le carte per comunicare in questura e tutto il resto è un conto qui c'è anche la necessità di sistemare le persone in fretta ecco quindi pensiamo un territorio come l'Ucraina di 40 milioni di persone che poi tiriamo via gli uomini dai 18-60 anni che non possono uscire attualmente se non per motivi particolari dallo Stato e devono rimanere a combattere ecco quindi tutte le altre persone quindi fasce di età diverse dai bambini fino ai 18 anni donne e anziani possono invece uscire ma chiaramente bisogna portarli al confine e cosa semplice il resto l'avete visto tutti le immagini che vedete alla televisione sono chiaramente continuano a ripetersi e non sono immagini piacevoli prego apriamo la discussione prego consigliere Montemez sì grazie Flavio allora sicuramente noi come gruppo tiro giù la maschera anch'io perché sennò poi si sente poco anche noi come gruppo consigliare appoggiamo questo documento a 360 gradi c'è una storia dietro all'Ucraina purtroppo noi diciamo sappiamo benissimo che ci sono quelli favorevoli e quelli contrari escono tanti pensieri anche sui social ma l'unica cosa che possiamo dire è che la guerra è sempre sbagliata sempre in qualsiasi non è mai una soluzione efficace quindi noi appoggiamo questo documento io non vorrei essere polemico non ho voglia insomma di entrare nella polemica però mi sento associato a quello che ha detto Vittoria prima nel senso che capisco che magari una riunione sarebbe stata insomma un po' più difficoltosa però sinceramente vedere su Facebook quella serata che avete fatto davanti al comune con l'illuminazione eccetera e io non ho potuto essere presente ci sono un po' rimasto male ma non ho potuto esserci perché non lo sapevo e testimoni al fatto che tu potrai dire ripeto non voglio entrare in polemica ma la Giada c'era ma insieme in quattro consiglieri gli altri tre ecco quindi io vorrei anche farti una proposta adesso se voi la accettate e se tu l'accetti anche sul discorso dell'ospitalità che hai detto tu prima incaricate un consigliere ma non solo su questa roba qua io avrei anche il nome da fornirvi che secondo me è una persona che può dialogare molto bene che con noi che intrattiene un po' i colloqui con quello che è il discorso della minoranza ma non solo su queste cose su tutto perché voglio dire anche nelle cartelline sapete benissimo che io sono in mezzama l'uomo delle cartelline vabbè anche nelle cartelline questo sarebbe il significato riuscire ad avere del materiale ma per concorrere con voi a fare qualcosa non solo per fare polemica però purtroppo nelle cartelline non arriva mai niente ora proposta che ti faccio io e dopo valuterete voi magari ne parleremo anche più avanti se io butto un nome non so se se Omar Gobetti che secondo me è una figura molto equilibrata e che può avere sicuramente un buon dialogo con noi se lui lo accetta nel senso lo butto in senso provocatorio ecco se lui accetta questa non dico delega ma questa questa questo discorso di fare una comunicazione con noi come dicevi anche tu sarebbe bastato un colpo di telefono ecco quindi ho un po' di rammarico di non essere stato presente ma soprattutto ho il rammarico di non essere parte propositiva come lo potete essere voi magari sul discorso dell'ospitalità ecco tutto qua va bene? Grazie Ti do subito una risposta un suggerimento lo diciamo così che siamo anche in streaming mercoledì è il primo giorno delle ceneri ci sarà una preghiera in chiesa questa volta penso alle nove alle nove abbiamo pensato di illuminare di quei colori dell'Ucraina la biblioteca il Palazzo Maggi e quindi a quell'ora siete tutti invitati devo ancora dire qualcosa sui social quindi lo stiamo decidendo adesso non è che la manifestazione domani sera prende il posto di quella dell'altra sera quella dell'altra sera è stata fatta in velocità magari anche così per prova perché non eravamo sicuri nemmeno di poterlo illuminare il municipio era un'iniziativa che abbiamo voluto portare avanti come come comune per dire anche agli altri sindaci se volete fare anche voi qualcosa di simile facciamolo e quindi questa iniziativa è stata raccolta da tutti gli altri comuni del territorio questa è stata una bellissima cosa noi abbiamo una chat che da quando parliamo di covid abbiamo iniziato a tenere viva adesso purtroppo il covid non è ancora finito e siamo arrivati a un'altra emergenza quindi abbiamo sfruttato questo canale che ci unisce le altre amministrazioni per dire facciamo qualcosa facciamoci sentire e quindi quella è solo la prima iniziativa che è stata fatta noi abbiamo fatto così è stato fatto un momento di preghiera solo perché oltretutto abbiamo chiesto se poteva venire un parroco se no magari avremmo fatto solo l'illuminazione un momento di raccoglimento niente di più anche mercoledì faremo la stessa cosa però mercoledì c'è anche questa preghiera in chiesa per chi vuole per chi è credente per chi vuole insomma partecipare altrimenti si trova davanti al maggi ecco sono una serie di iniziative su questo c'è massima disponibilità insomma non è che stiamo qua l'importante è iniziare non vogliamo nemmeno avere copyright di dire io ho fatto questo e sono meglio degli altri no è un esame è una coscienza cioè dico c'è quello che può mettere il lumino sulla finestra quello che mette la bandiera quello che magari va in piazza quello che magari abbiamo detto prima ogni cosa è necessaria per far capire che ci siamo che l'Italia è con l'Ucraina questo era lo scopo ok quindi anche su questo questo documento vorremmo siccome avevamo il consiglio comunale non so in quanti ce l'abbiano in queste sere o in quanti abbiamo portato magari chi è stato più svelto di noi può esserci appena ha avuto il conflitto ha fatto il consiglio e magari ha fatto questo documento noi l'abbiamo portato questa sera se avessimo avuto il consiglio fra una settimana ma probabilmente l'avremmo portato fra una settimana se l'avessimo avuto prima magari prima non lo so comunque è capitato oggi e oggi lo proponiamo non è stata una cosa diciamo così voluta escludere qualcuno ho detto discutiamolo prego prego Giada Perini consigliera Perini sì allora anch'io condivido il contenuto del documento volevo anche insomma esprimere due parole di solidarietà al sindaco perché comunque fino ad adesso abbiamo parlato della guerra come evento diciamo macroscopico però è chiaro che sei stato colpito a livello microscopico non microscopico nel senso di sminuire ovviamente era per insomma fare il parallelismo con la guerra e per cui ecco niente mi sentivo soltanto di dire che nessuno qui ti richiede insomma di essere un super uomo per quanto riguarda invece l'evento di venerdì si si vede che ho la protesi e quindi venerdì cero ammetto di non aver partecipato spiritualmente perché non sono credente però ho sempre rispettato tutti i credenti ci mancherebbe altro quindi nel senso che non ho pregato insieme a voi però sono rimasta lì e sembra insomma di aver rispettato anche il vostro momento di spiritualità per il resto volevo soltanto condivido come ho detto prima il contenuto del documento volevo soltanto ricordare che abbiamo anche tanti italiani comunque residenti in Ucraina per cui ecco un pensiero anche oltre che al popolo ucraino giustamente anche agli italiani comunque residenti si è giusto no come parentesi abbiamo anche una fabbrica qui che è la Coca Cola e la Contruglobal che ha la fabbrica gemella a Kiev ecco giusto per dire a volte il mondo quanto è piccolo prego volevo dire io condivido tutto il vostro documento se ti avvicini un po' più puoi togliere anche la mascherina l'ho tolta l'ho tolta hai ragione allora condivido il documento perché in questo momento mi sento di dire una cosa siccome io non ho mai simpatizzato per Putin come invece qualcuno ha fatto dei nostri capi e leader non miei ma della Lega Meloni vabbè ma li lasciamo questo non è il momento secondo me per fare nessuna nessuno di noi perché siamo passati dagli esperti virologi adesso siamo diventati tutti dei geopolitici ecco io non mi voglio avventurare in questa cosa anche se mi sono documentata potrei dire qualcosa io in questo momento penso che solo il tempo è il momento per dire no alla guerra nella maniera più assoluta e grande grande solidarietà all'Ucraina ma anche a tutte le altre guerre perché se no c'è la guerra più uguale e la guerra meno uguale però ora parliamo della guerra all'Ucraina non voglio assolutamente giustificare anzi condanno Putin per questo atto criminale e nel mio documento non è mio l'ho condiviso con il gruppo nel nostro documento questo è chiarissimo addirittura Putin viene condannato dal popolo stesso della Russia a cui va la solidarietà perché non solo al popolo ucraino che è stato aggredito ma addirittura ci sono parte della popolazione russa già 10.000 sono stati arrestati e non si sa che fine faranno che pur di pronunciare il loro no alla guerra contro Putin si sono presi l'onere e hanno avuto il coraggio di manifestare non so se noi saremmo stati capaci ecco come l'Ucraina quindi voglio dire una grande solidarietà questo non è il momento di indagare quali sono le responsabilità perché a tutto c'è il momento giusto questo non è il momento giusto adesso è il momento invece di dire un no e io condivido pienamente il vostro il vostro documento soprattutto per quanto riguarda la parte più operativa quella di creare appoggio che bisognerebbe usare questo metodo sempre comunque va bene che venga usato adesso magari sarà un modo di inaugurare un modo diverso di accogliere le persone che fuggono dalle guerre ma da tutte le guerre se no ci sono le guerre più belle quelle più particolari quelle che ci sono più vicini e quelle tutte le guerre perché potevamo anche fare qualcosa per le donne afghane non l'abbiamo fatto vabbè lasciamo perdere ora parliamo dell'Ucraina abbiamo fatto anche lì qualcosa non a livello comunale l'unica cosa no non intendo noi qui ecco no assolutamente ecco dico in senso generale eh Flavio l'unica cosa che mi lascia un po' perplessa oltre a voler leggere il mio documento è che nel vostro documento voi dite ecco qui a questo punto scusate se sono un po' puntigliosa eh chiede il consiglio comunale uno due tre al terzo punto chiede al governo italiano di supportare in ogni modo il legittimo governo ucraino a difesa dell'indipendenza allora in questo ogni modo siccome è generico io vorrei escludere l'intervento militare quindi perché noi non possiamo intervenire con l'intervento militare lo stesso Salvini ha detto che non si risponde alle bombe con le bombe cioè detto da Salvini voglio dire penso che non è un filo comunista vero ecco e neanche un vetero comunista quello che invece secondo me manca forse che si potrebbe aggiungere con spirito ecumenico io vorrei soltanto una precisazione qui in ogni modo ma non certo a livello militare perché se noi mandiamo dei militari noi o chiunque mandasse dei militari e lo dico non a caso perché il presidente ha praticamente invitato tutti anche volontariamente ad arruolarsi ma questo non detto da me ma detto anche da generali che ne sanno molto più di me da politologi che ne sanno molto più di me se noi mandiamo dei militari noi in Inghilterra la Francia allora si veramente che qui scoppia la terza guerra mondiale quindi noi dobbiamo secondo me escludere l'intervento nostro militare che è tutt'altra cosa ad aprire corridoi umanitari accogliere tutto non c'è dubbio anche metterci tre cappotti in più e fare a meno del gas della Russia mi vede disposta a qualsiasi sacrificio ma non all'intervento militare tanto è vero che il nostro Papa Francesco perché è vero che io non sono una praticante io non sono neanche una non credente io sono un'agnostica e allora praticamente però stimo moltissimo molto più di alcuni cattolici so che voi avete molta stima per Papa Francesco perché penso che in questo momento sia veramente una persona un gigante in questo mondo di nanismo politico e anche di gente con la schiena non dritta questo Papa in maniera molto chiara e netta ha detto negoziare 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 e nella tavola della pace della marcia di Perugia di Assisi non si fa altro che dire negoziare 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 si negozia quando c'è la guerra non quando la guerra è finita ma scusate chi conosce la storia le tregue quando sono state stipulate gli armistizi quando sono stati stipulati prima della guerra dopo della guerra o durante la guerra allora l'invito che io faccio non viene da un collettivo comunista l'invito che io faccio viene da Don Ciotti viene da Sant'Egidio viene da quella comunità di credenti a cui io mi associo perché io ragiono con la mia testa e quando si tratta di essere insieme ecco perché volevo lo spirito ecumenico quando si tratta di essere insieme bisogna essere insieme indipendentemente qua non siamo degli avversari politici nessuno deve fare il primo della classe insieme dobbiamo dire che devono negoziare negoziare e nel mio documento nel nostro documento del mio gruppo io dico questo allora io vi chiederei o di inserire o di accettarlo perché secondo me è un modo saggio lungimirante di affrontare la guerra non si può dire certo che dobbiamo aiutare ci mancherebbe io quello lo firmo lo voto ve lo dico già purché si sistemi quelli in ogni modo e dopo sono pienamente a favore anzi il vostro documento è completo perché ci sono tutti degli impegni pratici però vorrei che si inserisse anche questo invito alla negoziazione negoziare vuol dire che ci si sieda attorno a un tavolo e si fa un basso indietro tutti non solo Putin che è un pazzo che è un folle io lo so questo da una vita non da adesso e non ho mai parteggiato per lui perché tant'è vero che i comunisti a Mosca nella Duma sono contro di lui che i giornalisti vengono ammazzati che non c'è libertà di stampa per fortuna noi qui abbiamo libertà di stampa possiamo confrontarci senza vederci come nemici ma da onesti intellettuali avversari intellettualmente onesti però io vorrei che si negoziasse dobbiamo invitare a negoziare perché bisogna negoziare perché se noi rischiamo veramente noi non possiamo pensare a quello che fa il nostro primo ministro in Inghilterra tanto lui sta in Inghilterra siamo noi che siamo qui in Europa e altri non nominiamo altri che stanno molto lontani altrocene siamo noi che siamo qua in Europa e che dobbiamo stare molto attenti già per otto anni abbiamo fatto finta di non vedere quello che succedeva quello che succede in Palestina facciamo finta di non vederlo c'è la guerra in Siria non ce ne importa c'è la guerra in Yemen non ce ne importa adesso vogliamo aprire gli occhi e dire negoziare 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 perché se no noi ai nostri giovani ai nostri figli che cosa gli lasciamo questo voglio dire io e lo dico non da sinistra e libertà democratica lo dico come essere umano e come essere umano io non voglio fare un inciampo nell'evoluzione io voglio che noi come essere umano dobbiamo capire che quando si è di fronte alla guerra chi ha più testa se tu hai un pazzo davanti gli devi spuntare le armi e spuntare le armi significa negoziare 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 non possiamo mandare noi militari perché se no si andiamo alla terza guerra mondiale e io sinceramente per mia nipote per le mie figlie non la voglio la terza guerra mondiale perché ho 67 anni posso anche andarmene non me ne importa proprio un bel niente ma io ci tengo che le mie figlie e mia nipote e i giovani a cui che ho lasciato due anni fa possono trovare un mondo pieno di pace io chiedo questo e nient'altro e non sono penso di non essere polemica di voler anzi solo specificare quel non in ogni modo escludere l'intervento politico e io ho includo o addirittura li votiamo tutte e due insieme come due modi insieme per dire ok noi ci siamo perché quello che io ho detto viene detto dal Papa che il 2 ha proclamato il digiuno non è che me lo sono inventato perché sono di sinistra italiana assolutamente io faccio parte di una lista civica e sono una persona non ho l'etichetta grazie per completezza poi sì per completezza puoi leggerlo il documento così almeno allora noi diciamo un forte urlato quanto disperato no all'aggressione militare della Russia di Putin all'Ucraina condanniamo questa avventura criminale del Cremlino che è un'aperta violazione del diritto internazionale le immagini della metropolitana di Kiev con bambini e donne terrorizzate sono una ferita una sconfitta per l'umanità un drammatico inciampo nell'evoluzione e nella costruzione della pace la pace non è un'utopia diceva Gino Strada ma un progetto incompleto da realizzare di cui i potenti della terra sono responsabili il nostro cuore dalla parte degli ultimi dei deboli e oggi siamo con i civili ucraini e con quelli russi che manifestano per la pace ci troviamo di fronte all'astrovolgimento degli assetti strategici mondiali nessuna ragione politica di giustifica la terra siamo contro a prescindere da chi la muova siano essi occidentali cinesi o russi e siamo contro alle politiche di potenza che preparano scenari distruttivi e di morte sarebbe ora che la politica sia assumessa la responsabilità di dire no a tutte le guerre con scelte concrete stop alla crescita delle spese militari sia al disarmo sia alla dismissione delle armi nucleari la pace va cercata mantenuta con il dialogo con la diplomazia anche e soprattutto quando la guerra è già in atto quindi negoziare 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 dobbiamo ricostruire lo spazio per il dialogo e il negoziato politico con la Russia come si è fatto ma in vano durante la guerra fredda con la conferenza e gli accordi del SINC nel 75 e con gli accordi di Minsk nel 2014 anche allora scelta la guerra si è pervenuti a degli accordi negoziare e ricorrere ai buoni uffici all'arbitrato come previsto dalla carta delle Nazioni Unite questa è la sola e vera norma giuridica fondamentale è proprio in questi momenti di alta tensione che questo diritto deve essere applicato con saggezza intelligenza lungimiranza e lo si deve fare ora che rischiamo la catastrofe più tragica lo dobbiamo al popolo ucraino al popolo russo che manifesta contro la guerra lo dobbiamo ai nostri giovani ma io aggiungerei anche ai bambini agli anziani alle donne a tutti a tutti gli esseri umani l'alternativa è una catastrofica guerra mondiale che devasterà l'Europa e non avrà vincitori se davvero vogliamo la pace smettiamo tutte le guerre e incominciamo a prenderci cura di ciascun essere umano e della natura che ci nutre e ci ospita e questo è nell'enciclica di Papa Francesco quindi come vedete è molto ecumenico senza etichette ecco io vorrei potrebbe magari a livello pratico però invitare alle negoziazioni penso che possa essere un valore aggiunto dal mio punto di vista dopo bene andiamo avanti con gli interventi prego Lisanna Lisanna Bellani consigliera volevo solo dire da consigliera alle politiche giovanili invitare anche visto che durante la campagna elettorale ho visto altri nomi di miei coetanei o più o meno anche nelle altre liste non so come dire però a fare propaganda anche a questa cosa della guerra più che altro perché gli adulti ho parlato anche con i miei genitori e altri adulti sicuramente fa paura e tutto però noi giovani è tre anni che non abbiamo speranza nel futuro e sinceramente pensare di vivere ancora così se non peggio perché sinceramente fino a una settimana fa la mia più più grande paura era prendere il covid o stare in casa adesso me lo prenderei anche una volta al mese se risolvesse la situazione e niente quindi visto che c'erano anche altri giovani ma oggi mi trovo io qua e non posso fare tanto per risolvere almeno di parlare anche agli altri giovani che c'erano nelle liste e di diffondere il messaggio e se possiamo anche aiutare in qualche modo tra coetanei o comunque per portare avanti una generazione migliore perché quella che c'è adesso lascia un po' a desiderare e niente solo questo grazie bene grazie posso scusate volevo dire sono contenta che tu sia intervenuta scusa se mi permetto di darti del tu sono contenta infatti tu hai notato scritto ai giovani perché i giovani non sono ascoltati ci si riempie la bocca dei giovani ma forse ai giovani bisognerebbe ecco voi dovreste prendere in mano la vita e voi organizzarvi organizzarvi perché voi effettivamente vi hanno rubato due anni di gioventù che a me possono anche fare non dico la stessa cosa ma insomma ho già fatto una buona parte della vita ma voi rubare due anni con il covid e adesso entrare in questa guerra ecco perché dico negoziare negoziare a tutti i costi facendo tutti un passo indietro e voi giovani non solo per il clima dovreste scendere in piazza organizzarvi e scendere in piazza dovete scendere in piazza farvi sentire farvi sentire bravi mi complimento con te veramente bene vice sindaco prego sì buonasera a tutti chiaramente condivido anch'io questo documento condivido tutta la linea che stiamo portando avanti l'idea di elaborare questo documento era in primis proprio di testimoniare in modo concreto come comunità di Nogara possiamo dare una mano a queste persone perché io penso che già mettere nero su bianco il fatto che siamo disponibili penso che sia il primo comune in provincia di Verona che lo faccia che siamo disponibili ad accogliere queste persone un paese come Nogara che non si è mai tirato indietro neanche con l'accoglienza neanche negli anni precedenti non si è mai tirato indietro e a maggior ragione questa volta che colpisce una popolazione perché ci fa perché la sentiamo di più anche questa guerra è vero che tutte le guerre sono brutte concordo su questo perché non è che la guerra in Sirio in Palestina o in Noio Yemen siano guerre di serie B ma questa guerra che è in atto ci colpisce fortemente perché è una guerra in Europa è una guerra non solo in Europa perché anche la guerra dei Balcani negli anni 90 io ho qualche ricordo di bambino impressionò perché comunque le bombe erano molto vicine a casa nostra anche geograficamente ma era una guerra per quanto bruttissima etnica tra gruppi etnici locali questa invece è proprio una guerra che ha le sembianze di Hitler che va a invadere la Polonia e poi abbiamo Putin che va a invadere l'Ucraina allora è veramente brutta come immagine che viene data e soprattutto è brutto vedere parlando di giovani come si cerca esternamente di soffocare il sogno europeo di tanti giovani io penso tanti giovani ucraini che sognano una vita come la nostra di libertà di democrazia dopo tanti anni appunto sotto prima il dominio nazista poi quello sovietico dopo tanti anni nei quali sono stati privati di totale libertà dell'aspirazione di crescere di diventare persone anche affermate nella società di costruire un futuro veramente migliore e ora che hanno la possibilità di entrare e hanno il sogno perché se questo presidente è stato eletto col 70% si è presentato chiaramente con un programma europeista Zelensky e vedere che da mano straniera diciamo si vuole bloccare questo sogno europeo questo sogno di entrare in una società libera democratica a 360 gradi è una cosa che a me fa male ed è questo che mi ha messo un'angoscia terribile nel pensare e mi sono messo nei panni di questi ragazzi che non riescono e che vedono in questo momento io spero che poi le cose finiscano meglio di come si stanno mettendo ma che in questo momento si vedano un po' soffocare questi sogni e spero anch'io in una forte reazione anche del popolo russo perché comunque credo che la maggior parte di russi non voglia la guerra e credo e spero che per primi si ribellino nei confronti dei propri governanti però questa chiaramente è una questione loro noi in questo senso dobbiamo impegnarci dobbiamo impegnarci appunto a testimoniare in tutti i modi la nostra solidarietà e dobbiamo impegnarci concretamente perché poi in realtà siamo stati anche tra i primi a lanciare i monumenti illuminati la preghiera tutte quelle cose che hanno un valore simbolico ma dopo bisogna la cosa si fa nella pratica quindi bisogna che anche noi ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo del nostro due specificazioni dal punto di vista tecnico di questa delibera intanto solitamente le mozioni impegnano l'amministrazione o la giunta volutamente questa volta se avete visto abbiamo messo il consiglio comunale si impegna perché tutti noi dobbiamo vederci coinvolti in questa cosa comunque di impegno concreto di solidarietà nei confronti della popolazione ucraina l'altra cosa mi sembra quasi scontato diceva il consigliere di Biase di supportare in ogni modo chiaramente in ogni modo consentito degli accordi internazionali questo mi sembra chiaro l'Ucraina in questo momento non è un paese nato quindi la nato non può intervenire militarmente questo penso che sia nelle croniche di tutti i giorni e quindi con ogni modo che è legalmente consentito dei trattati internazionali quindi va a escludere un intervento armato diretto nostro questo mi sembra abbastanza chiaro e spero che anch'io sulla negoziazione ci sia delle buone prospettive stanno negoziando in queste ore le notizie di queste ore che hanno concluso il primo giro di incontri ce ne sarà un altro leggevo prima su l'ANSA e speriamo che questo porti a un accordo equo partendo sempre dal fatto che abbiamo un paese che è stato invaso da un altro paese straniero e questo è una cosa secondo me ripeto senza precedenti dalla seconda guerra mondiale e che ci deve far riflettere molto ci deve far riflettere molto sul valore sul valore geopolitico internazionale insomma anche qua si potrebbero aprire tante parentesi perché poi insomma il ruolo della Cina il ruolo degli Stati Uniti insomma c'è una una situazione geopolitica internazionale abbastanza complessa ma non è questo il momento secondo me per discuterne e non è neanche lo scopo di questa mozione questa mozione ha lo scopo questo ordine del giorno ha lo scopo di testimoniare sia a livello simbolico ma anche a livello pratico impegnandoci tutti qua dentro tutti nell'aiutare e nell'accogliere i profughi ucraini grazie grazie prego prego consigliere Marconcini sì anch'io naturalmente intervengo per esprimere la piena solidarietà al popolo ucraino che in queste ore sta vivendo questo dramma tremendo e orribile della guerra così come lo stanno vivendo da anni tantissime popolazioni sul nostro pianeta ovvio come è stato detto da chi mi ha preceduto insomma questa è una guerra che è diversa dalle altre seppur in corso da tempo seppur in corso da molti più anni e magari con molti più morti per tante ragioni ma mi sento di sottolineare quello che diceva il vice sindaco poco fa cioè che il modo con il quale si è arrivati diciamo allo scoppio di questo conflitto con un'invasione proprio cioè sembra di leggere i libri di storia di quando andavamo all'elementare è vero cose orribili abbiamo visto e allo stesso tempo mi sento anche di dire che pur non frequentando in maniera assidua e social per cui mi scuso anche io io neanche sapevo di questa iniziativa che avevate fatto me ne scuso ma veramente ero all'oscuro di questo altrimenti avrei partecipato nei limiti delle mie possibilità e della quarantena che tra virgolette stavo rispettando comunque questo è un altro discorso quello che volevo dire è questo è che ho letto comunque sulla stampa alcune dichiarazioni anche da parte di politici nostrani italiani che magari non sono tutti allineati in un senso e cioè non tutti stanno difendendo purtroppo mi sento di dire la situazione del popolo ucraino o comunque lo fanno con delle eccezioni io credo che il tema geopolitico non sia un tema del quale possiamo discutere noi in un consiglio comunale così come non possiamo discutere in famiglia o al bar cioè voglio dire parliamo di situazioni che ci volano sopra la testa perché sono veramente molto difficili da comprendere credo che ci siano delle buone ragioni forse da tutte le parti per rivendicare l'appartenenza di un territorio sotto l'una o sotto l'altra bandiera ma è pur vero che non c'è nessuna buona motivazione per uccidere anche solo una persona quindi penso che questo sia il principio cardine poi ognuno può dire quello che pensa io credo che tutti noi siamo chiamati non a schierarci diciamo ad alimentare uno schieramento del con uno o contro l'altro senz'altro in questo momento noi siamo tutti a favore della pace e non a favore di una guerra per cui mi fa molto piacere il suo intervento consigliere Bellani perché anziché correre dietro tante sciocchezze forse sarebbe ora che tutti noi specialmente più giovani si muovessero in direzione di qualcosa di utile per tutti noi e volendo essere egoisti anche per noi stessi oltre che per chi ci sta vicino di casa dopo fare grandi iniziative grandi manifestazioni senza altro serve parliamoci chiaro tante volte neanche ci curiamo del vicino di casa figuriamoci se andiamo a curarci delle popolazioni lontane però dobbiamo senz'altro imparare anche da queste situazioni che sono veramente come dicevo prima macro cioè sono proprio alte e prendere spunto anche e portare avanti iniziative come quella che proponete voi mi sento di dire integrata anche dalla proposta della collega di Biase penso siano cose importanti da fare e credo anche che qualsiasi leader politico di livello internazionale sia più preoccupato dalla movimentazione che c'è stata in questi giorni vedersi la folla di circa un milione di persone davanti alla porta di Brandeburgo l'altro giorno per dire che non di quanti obiettivi abbia colpito o mancato nella giornata di missili lanciati quindi penso che facciano molto effetto queste iniziative nel nostro piccolo noi cerchiamo di darci da fare ci fa piacere appunto che arrivi questo documento va bene questo così come va bene anche l'iniziativa di massa dove le persone si trovano in piazza e credo che effettivamente ognuno nel nostro piccolo possiamo fare molto di più e lasciare molto più il segno rispetto a tanti altri ripeto obiettivi colpiti o mancati quindi anch'io naturalmente sostengo questa iniziativa bene altri interventi i tre consiglieri qui hanno firmato il comunicato che avevo fatto non avevo intenzione di presentarlo semplicemente perché ho visto che non c'era niente da vedere lo alleghiamo dal comunicato siccome non mi sembra che siano in contrasto potremmo votarvi uno e l'altro se siete d'accordo non sono in contrasto ma sono due documenti completamente diversi cioè uno è un comunicato l'altro è una delibera certo si può comunque il comunicato il comunicato anche perché vi dico ho ricevuto anche altri comunicati di altri gruppi politici non ho capito abbiamo ricevuto questa mattina anche un altro comunicato di un altro gruppo politico che non ha consiglieri comunali quindi io direi questo va bene però anche se qualcun altro vuol fare documenti che poi vadano ad agganciarsi a questo ok però io la votazione devo farla solo sulla delibera capite lo mettiamo dentro però non posso modificare questo no vai a modificare due documenti anche perché noi siamo della Nato vi ricordo non è che stiamo qua noi siamo Nato e ragioniamo col discorso europeo quindi va bene tutti i discorsi che facciamo contro la guerra pienamente d'accordo con tutti però bisogna guardare in faccia la realtà la realtà sta agendo in un modo magari diverso da quello che c'è scritto lì quindi o facciamo l'ipocriti a me può anche star bene rendiamo i documenti del mondo per la pace e tutto il resto però il discorso dell'armamento verso chi sta invadendo l'Ucraina da parte d'Europa è in atto lo sapete lo state leggendo i giornali guardando la televisione allora cosa vogliamo dire in un documento non andate là con le armi quando in realtà sappiamo che l'Europa si sta muovendo anche da quella parte lì allora questo qua io non posso fare un qualcosa che va contro come? no ho visto no quando tu usi il discorso delle armi il disarmo cioè va bene ho visto anch'io quella parte lì relativa agli armamenti però è un altro se no possiamo togliere io capisco un discorso se togliamo quella parte lì la inserisci scusate un secondo non è che stiamo qua a discutere inserisci allora questo è un documento fatto senza un risvolto politico mentre questo può averselo ci siamo finì abbiamo ricevuto anche un altro documento che c'è tanto di simbolo il nostro non ce l'ha allora se mi lasciate parlare vi spiego ma vabbè questo non so cosa sia allora quello lì un altro ancora beh questo è un simbolo non so io cosa sia questo vabbè aggancerò quello lì anziché questo allora eh se il problema è il simbolo io non voglio fare la prima no 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 nel senso che sono arrivate altre comunicazioni che allora avremmo dovuto portarle questa sera ok noi recepiamo questa come comunicazione e raganziamo una delibera che rispetta quello che è l'indicazione europea ok ma perché questa non la rispetta secondo me sul discorso delle armi no tu hai detto un discorso diverso prima io non so cosa vorresti far votare io non ho nominato la Nato io non ho nominato la Nato la Nato sta prendendo delle decisioni io ho detto di negoziare lo sta dicendo ma allora il nostro Papa è contro la Nato cioè non ho capito allora abbiamo ti porto ti porto ti porto un esempio tu vuoi dare un risvolto più politico a questo discorso si è capito dall'inizio io voglio dare un discorso umanitario a chi è rivolto questo documento a chi è rivolto ma dopo potremmo fare maggioranza opposizione ma va bene avete ragione perché siete in opposizione quindi tutto quello che facciamo noi è criticabile per carità però io ti dico questa mattina un giornalista ha fatto un discorso perfetto un giornalista alla televisione ha fatto un discorso perfetto e ha detto sono in una delle poche città forse l'ultima che deve ancora essere invasa dai russi la gente andava nei bar e andava a lavorare ha detto a guardarci intorno non sembra che ci sia la guerra però qui da un momento all'altro arriverà una sirena e ti dice scappa prendi quello che hai se hai la macchina la riempi con tutto quello che puoi e poi vai via perché qui arrivano le bombe allora in questa situazione noi dobbiamo dare ospitalità a queste persone che può darsi e spero che non arrivino mai e che l'accordo ci sia no segui il ragionamento però quelle persone disperate che sono verso il confine che non sanno dove andare noi dobbiamo dare la nostra disponibilità da subito dico solo che questa è stata l'ottica con cui è stato fatto questo non abbiamo voluto pensare ad altro ok tutto lì chiedo scusa ma l'ottica di questo documento è chiaro che io ho dovuto mettere il simbolo se no chi sono io ma perché l'ho messo sui social ma io adesso in consiglio comunale ti do questo dove non c'è nessun simbolo ma questo questo documento non è politico sto dicendo non è documento politico scusami un attimo Vittoria è stato presentato sui social sì ma cosa vuol dire il nostro documento è stato discusso qua stiamo discutendolo qua ma ma scusate un attimo se questo allora chiedo scusa se tu mi dici che questo documento è contro la Nato no io ti sto dicendo che questo documento non ha simbolo lo stiamo discutendo qua e se volete votiamo questo se questo qua va agganzato come altri documenti che arriveranno anche nei prossimi giorni senza problemi ok però noi stiamo votando questo io sto dicendo che le due cose non sono incompatibili io ti sto dicendo che prendo atto però io voto il documento che abbiamo scritto noi se vuoi è così e non si possono votare tutte e due no perché no come lo votiamo come un comunicato il vostro no spiegami come va votato ho chiesto anche al consigliere prima allora abbiamo un comunicato che è una delibera ok delibera e un comunicato che è già sui social quindi io devo votare un documento che sta sponsorizzando il tuo partito non si può fare un'integrazione va bene la discussione la stiamo facendo però però una cosa visto che prima l'hai citato il galateo istituzionale è galateo istituzionale allora si fa un documento di un partito legittimo benissimo lo si mette su un social e dopo si dice ho fatto il documento messo sui social e dopo ve lo metto qua che vi piace lo metto in votazione il galateo istituzionale vorrebbe dire lo presento in consiglio comunale lo discuto può andare bene come no lo si vota sì o no ok questo è il galateo istituzionale ok fare invece un documento buttarlo sui social con il simbolo di un partito e dopo prenderlo qua e votarlo allora noi non diciamo che siamo contro questo documento ma diciamo che lo alleghiamo dietro la delibera cosa che mi pare non vada in contrasto assolutamente chiaro però sono due cose diverse non possiamo metterlo allo stesso livello scusate un attimo è solo per proporre una soluzione che mi sembra molto semplice per evitare tutte queste discussioni ma non possiamo scusa un attimo Emanuele non possiamo fare invece di adesso il testo di questo è uguale a quello che avete pubblicato su Facebook è uguale identico ok allora se il problema è che è stato pubblicato su Facebook secondo me si può risolvere in questo modo qua se anche la consigliera di Biase è d'accordo visto che l'ha proposto lei mettiamo come lei aveva proposto al posto di in ogni modo oppure vicino a in ogni modo mettiamo la virgola compresa l'impossibilità di intervenire attraverso le armi è questo è questo l'argomento vedi che sei arrivata a bomba non puoi non puoi decidere in questo consiglio comunale è una cosa che l'ha nato e l'Europa sta già decidendo non è che la decidiamo diamo il nostro indirizzo perché secondo te secondo te cosa stanno decidendo grazie cioè ho capito allora facciamo un documento che va in contrasto con l'ha nato che l'Europa e ve lo votate voi io voto un documento che non va in contrasto è essere chiari o no? scusa posso intervenire Vittoria? no posso vuoi intervenire? beh prego allora cioè io quel documento lì che hai preso tu col simbolo sui social non l'ho visto e non mi interessa ma se te vedi una roba non l'ho visto e non mi interessa ma non cambia niente io prendo scusa posso finire prendo un documento visto che voi avete chiesto da parte nostra cioè di tutti i consiglieri al di là dell'appartenenza politica noi abbiamo sottoscritto un documento che se siete d'accordo anche voi lo protocolliamo che non ha nessuna linea politica è fatta solo come consiglieri di minoranza e visto che voi ci chiedete di integrare perché l'hai detto tu prima Flavio la possibilità di integrare quello che avete fatto voi troviamo la formula per integrarla o allegarla questo non è un documento politico che è un documento fatto da noi consiglieri che ci sentiamo di sottoscrivere ma di cosa stiamo discutendo ho detto che va allegato a un documento che è finito così e va volete quello lì con la firma questo simbolo per me è lo stesso e li mettiamo assieme capito il concetto ma non andiamo a modificare questo con quella frase lì perché diventa un documento politico di una parte politica che non è la mia vabbè neanche la mia Flavio eh no qui ci dobbiamo un po' chiarire ci dobbiamo chiarire sulle armi sì chiariamoci allora innanzitutto io non sono quel simbolo è una lista civica e non è un partito quindi non è un dopo andiamo a definire il simbolo perché non conosciamo neanche sto simbolo al momento perché fatto così per me può essere quello da Perini ok allora dopo dobbiamo ancora andare su quell'argomento pronto senza nessun simbolo però io a questo punto che avevo detto l'unica cosa che mi lascia allora avevo capito bene quando ho detto in ogni modo perché tu mi stai dicendo che siccome noi apparteniamo alla Nato allora vuol dire che se la Nato dice che dobbiamo portare le armi noi le portiamo bene le ha già portate forse non leggete bene i giornali allora sai a che punto siamo sai a che punto siamo della guerra o no o vi devo fare una rassegna stampa lo sai se le hanno portato già le armi o no solo 20 giorni allora le hanno portate le armi o no allora non sto parlando di armi no di cosa sto parlando di militari che vanno a fare la guerra è un'altra roba ancora allora sì perché io ti ho detto prima allora i militari della Nato fammi finire per favore scusami fammi finire eh insomma prima finisco ma io vi tengo qua anche fino domani mattina a parlare di Chievo anzi vi dico anche degli aneddoti non è il problema di non farti finire io sono come una quercia bella solida e non c'è problema allora ascolta il problema io non voglio entrare in polemica ti sto dicendo che ci dobbiamo chiarire perché io non sto parlando so benissimo che addirittura la Germania gli ha dato le armi che gli stiamo dando dare le armi è una cosa mandare i militari ti ho parlato dell'arruonamento di militari da tutta Europa è un'altra quella ci espone alla terza guerra mondiale ma capisci ma allora abbiamo una base una base conoscitiva diversa io e te loro non sono andati in uno stato della Nato porca miseria io non ho finito eh ho capito ma stai dicendo un'inesatezza Prodi che fa parte della Nato e Sergio Romano che faceva parte dell'UNESCO hai letto cosa hanno scritto Prodi allora cosa vuol dire noi anche rispetto alla Nato se la Nato che sta che praticamente ci dice che noi dobbiamo mandare i militari dobbiamo andare incontro alla terza guerra mondiale noi la vogliamo fare è certo che io sono io sono europea non sono anti-europea ma devi sapere che proprio Salvini che il tuo leader del tuo partito ha detto che non dobbiamo mandare i militari l'ha detto ieri ad annunziata Salvini e Meloni se c'è scritto che mandiamo i militari allora è quello che ti sto dicendo di non mettere dove c'è in ogni modo io non faccio tutto quello che mi dice la Nato perché se la Nato mi dice che devo mandare i militari io non li mando i militari a fare la guerra nell'Ucraina perché lì significa fare scoppiare la terza guerra mondiale ci siamo e non lo dico io non mi devi fare la rassegna stampa perché io non vado in televisione a fare le rassegna stampa io leggo mi documento anche io tutti penso lasciamo stare ti voglio semplicemente dire che tu so benissimo che stanno mandando le armi mandare le armi gli aiuti i corridoi umanitari va bene tutto ho detto ma io non mando militari italiani a fare la guerra e neanche i francesi li manderanno perché se no significa fare aprire la terza guerra mondiale ma ci vogliamo rendere conto di questa cosa o no quando c'era Craxi e te lo dico io non ti ricordi la questione di Sigonella Craxi non ha mica fatto uno strappo la Nato ha detto no io da Sigonella non faccio partire i missili della Nato un po' di schiena dritta la vogliamo avere ma non vuol dire essere contro la Nato vuol dire essere contro la terza guerra mondiale perbacco oh è questo che sto dicendo non ho detto che non dobbiamo aiutare non mandare le armi e mandare le armi è una roba ma mandare i militari significa aprire la terza guerra mondiale perbacco e poi come mi fai a dire una cosa del genere l'articolo 7 della Nato dice che tu puoi soltanto difendere e allora e allora tu mi dici se la Nato ci dice di mandare di mandare cosa ma non sto dicendo questo guarda che ti sei invasata e inaricata a te ma allora perché non lo posso dire perché diventi perché diventi matta su un discorso così veramente ti stai aggrappando sui muri sei tu che hai paura di scontentare la Nato ma come paura di scontentare la Nato di che ma scusa un attimo ti sto dicendo che il mio non è un documento politico di parte è un documento per aiutare la gente ci siamo fin lì poi no va bene dai la sono a perdere sì 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 è una posizione di pacifismo che non è roba che il pacifismo è partito politico allora il Papa l'ha affinato il Papa benedetto Papa allora poi potevamo a tutti perché il Papa sa dire a tutti basta, adesso lo vedete in me dovete fare tutti i positivi ma devo a tutti insomma solo a uno questo voglio dire allora ma una cosa volevo capire forse nel dibattito che c'è stato tra il consigliere, il Dibiase e il sindaco non si è capito bene una cosa Flavio, ci ho capito bene ha detto che l'Ucraina non è un paese nato gli accordi del Nato prevedono che un paese nato venga difeso dagli altri paesi se viene attaccato è il motivo per il quale in questo momento e anche in avanti non è previsto che ci sia un dispiegamento militare in Ucraina di militari della Nato chiaro? basta quindi cioè questo è sono gli accordi internazionali tutto il resto tutto il resto è tutto il resto che hai detto anche te quindi supporto logistico anche di armi perché il governo italiano comunque l'ha appena votato all'unanimità e anche umanitario chiaramente in primis quindi questi sono quelli che può fare il governo italiano in questo momento perché è dentro un sistema di accordi internazionali niente di più niente di meno cioè qua non si tratta di dire la Nato deve mandare i militari ma chi è che lo dice? qua nessuno di noi lo dice ma assolutamente ma zero proprio questa cosa è chiaro che quando si dice con documento che bisogna andare verso il disarmo e diminuire la quantità di armi nei propri paesi bisogna anche considerare che l'Italia è nella Nato ed essendo nella Nato deve rispettare degli accordi internazionali come deve rispettare la Francia la Spagna gli Stati Uniti l'Inghilterra la Germania è rispetto degli accordi internazionali e qua la parte un po' ideologica che c'è in questo documento del vostro gruppo politico questa è la parte un po' ideologica che c'è cioè ci sta voglio dire che è stato pubblicato che è stato pubblicato un giorno fa su Facebook che è stato pubblicato beh certo perché no beh ma scusa ma può essere può essere siamo in un paese libero democratico si può pensare a quello che si vuole certo io sto venendo già a un compromesso sto negoziando stiamo negoziando esatto certo certo ma quale sarebbe l'ultima parte prova lei se l'ultima parte quale sarebbe ricostruire lo spazio per il dialogo negoziare sì lo sappiamo leggere lo sappiamo leggere non si preoccupi consigliere di Biase nonostante le sue lezioni galateo istituzionale sappiamo leggere l'italiano non si preoccupi anche se però magari anche lei pecca un pochino prima mettendo i simboli di partito e dopo ripopronendoli ma di là di questa cosa che non è un problema ma scusami un attimo ma scusa posso fare una proposta di ammendamento ma scusa un secondo Emanuele ti stai comportando come quello che mette lì qualsiasi roba contro la maggioranza e che va bene e questo è il tuo atteggiamento si è capito cos'è noi lo stiamo discutendo allora Emanuele fa un po' più lo metto e rendete conto che stiamo discutendo una cosa senza dire qualsiasi roba mi proponi mi firmo qua abbiamo un documento firmato da voi ma prima forse non te ne sei accorto c'era questo è uguale lo sto discutendo con lei e non con te te anche se ti metti una verza ti firmi in cacuela e tu capis il problema basta che sia contro la maggioranza quindi non sei più credibile nemmeno nella firma dei documenti capisci posso risponderti eh sì perché scusa allora intanto ometto lo dici ad un altro perché se vogliamo avere un po' di rispetto ometto ometto lo dici ad un altro a un altro sì scusami te lo metto bene ecco meno male che c'è l'intervento del vice sindaco posso rispondere lo metto sarei io sarei io lo metto posso rispondere posso rispondere sono mia come un agricoltor che ciappa i meloni le sucche tanto per far opposizione come ti dirti e invece non è così perché nella mia premessa ho indicato che non voglio entrare in polemica su sta roba qua ma che guarda ci sto entrando lo sai perché ci entro allora la prima cosa e lasciami finire quel documento lì questo documento lì si potrebbe andare avanti che finire la mattina questo documento qua è stato protocollato senza nessun simbolo politico perché io credo a quello che dice vittoria ok potremmo entrare su tutti i discorsi della nato tutto quel che ti vuole è un documento apolitico non ho visto il documento che dici tu sui social perché io i social non li seguo come li seguite voi ma che ma vai ma questo è una balla colossale è una balla colossale ma se ti guardi i social anche dei cagnolini che passano per strada ma non dire così no le dico solo io le bugie i social non li guardano allora io ti sto dicendo come tema che se ti tiro via l'amicizia sui social dopo due minuti ti mette le iconi beh che ne è che ma tiro via l'amicizia esatto ma chi ha fatto una domanda ha dato una risposta ma che ne è sì difatti che ne è ma mi è l'amicizia che la tiro mai via nessuno detto questo non portarmi non portarmi su altre considerazioni personali che non ho voglia di fare no no andiamo anche sul personale dove vuoi tu hai fatto beh insomma mi sul personale non mi piacerebbe andare però se tengo andare sempre vai sul personale io vado sul personale ah sì sempre dipende da cosa ti intendi per personale cosa c'entra il discorso di volantini sono fatti sul personale dobbiamo stare sul pezzo se no parliamo di volantini delle verte parliamo di volantini dei volantini delle verte dei meloni certo rispondiamo anche di quelli certo ti sto dicendo ma certo tira dentro anche al pangelua ti sto dicendo che per non uscire da questa cosa se non non ne veniamo più fuori ma ti sei un pessimo meditore siccome tu hai detto tu hai detto se c'è qualcosa da integrare allora e poi chiudo perché se no tanto non sei capema mia la nostra proposta che abbiamo fatto l'abbiamo fatta adesso qua non mi interessa quella che c'è sui social l'abbiamo fatta qua non c'è il simbolo perché se no io non l'avrei firmata è uguale a quella sui social non l'avrei firmata la sto vedendo adesso ragiono con la mia testa mi va bene quello che dice una consigliera che politicamente con me non ha niente a che fare perché sono più vicino alla tua posizione politica ma prendo atto e sarebbe bella cosa che voi diceste bene ora vediamo come fare e la integremo invece la vostra risposta è portate diteci cosa volete e da poterne tagli le gambe questo è il discorso Flavio c'è il modo secondo me va bene allora parliamo con l'interlocutore principale che è la Vittoria Di Biase grazie per l'interlocuzione allora posso fare una domanda sì possiamo fare anche una proposta dobbiamo sentire solo va bene allora continuate a parlare voglio fare una domanda a cui vi date la risposta allora io avevo ci siamo scaldati come è giusto che sia però io direi di stare su questo pezzo non su altro lasciamo stare quello che verrà dopo quello che c'è stato prima perché stiamo parlando della guerra ok allora siccome anche quando facciamo anche quando facciamo posizioni dura non è mai opposizione per offendere nessuno vi ho persino detto e lo potete guardare rivedendo e riascoltando la registrazione che il documento mi andava bene che io lo votavo volevo soltanto precisare dove c'era per anzi ho anche l'ho dato il documento perché ho detto che c'è l'impegno da parte vostra io lo volevo sostenere adesso vi ho chiesto se voi ritenete che quel documento è troppo ideologizzato perché anche il Papa è ideologizzato anche la tavola ok va bene allora ho detto leviamo la parte del disarmo tutta quella parte che a voi vi agita un po' perché sembra che contro la nato ma no no è solo perché fammi finire zio Peppino e insomma eh ma stiamo ma scusa io ti faccio finire ma stiamo interagendo ti sto dicendo che sto facendo una trattativa sto negoziando io non posso parlare no ma io non ho finito la mia trattativa la mia trattativa è questa io ti voto a favore il documento però vorrei che tu nel tuo documento inserisci non tutto il mio comunicato perché è un comunicato perché lo so bene che è un comunicato allora prendi solo e integri la parte dopo negoziare negoziare dove diventa una parte integrante del documento e quella parte se tu la leggi non va non è neideologizzata non è niente non dice niente contro nessuno chiede solo di negoziare per evitare la terza guerra mondiale punto se a te non va bene questa negoziazione e questo compromesso non al ribasso per me non è al ribasso ma è al rialzo è un valore aggiunto per i nostri giovani ok che devono campare non tanto per me ok allora visto che ci riempiamo la bocca dei nostri figli dei nostri giovani allora io voglio aggiungere quella roba vorrei se per te va bene lo integriamo e votiamo tutti a favore anche la minoranza se invece tu non vuoi aprirti a una negoziazione allora io non voto il tuo documento ma non perché non mi piaccia perché tu non stai dimostrando un atteggiamento ecumenico aperto alla negoziazione ti sei chiuso non so per quale motivo ok non va bene non va bene in una negoziazione politica e neanche in un consiglio comunale perché quella parte finale non è ideologizzata se mi dici di disarmo vabbè posso anche dire che l'ideologia dei pacifisti la vuoi eliminare ok ma lo spazio la parla della carta dell'ona non va bene quella là ma perché non ho capito mi devi spiegare perché quella parte non la puoi inserire voglio solo questa risposta e poi mi comporto di conseguenza consigliere Marconcini mi dispiace intervenire per cercare di riportare un po' di equilibrio mi sento di dire in questo consiglio siamo partiti bene mi pare nella discussione prima stiamo un po' andando fuori allora intanto credo che sia importante restare sul tema senza guardare come diceva prima anche la collega di Biase che cosa viene dopo che cosa c'è stato prima ora stiamo parlando di questa vostra proposta la consigliera di Biase ha presentato questo comunicato dal quale chiede di estrapolare e noi questo sosteniamo una parte che invita ad evitare effettivamente qualsiasi mezzo pur di intervenire contro quelli che sono gli armamenti scusate i bombardamenti russi perché l'intenzione è vero cioè è quella di evitare lo scoppio del terzo conflitto mondiale ma io credo sindaco che i milioni di tedeschi piuttosto che spagnoli italiani e francesi che andiamo volendo intervistare in strada oggi domani dopo domani non chiedano di fermare la guerra con le bombe quelli che sono andati in piazza non stanno chiedendo di rispondere all'attacco russo stanno chiedendo la cessazione del conflitto che è una cosa diversa quindi facciamo anche un attimo di ordine è importante dare e sollecitare iniziative come questa però noi non siamo sovrani nelle decisioni che dovrà prendere Draghi all'interno del gruppo della Nato quindi voglio dire in fin dei conti noi diamo un segnale perché non dare un segnale che invita ad evitare armamenti e che invita a effettivamente dialogare e negoziare penso che sia importante ed è quello che vogliamo tutti mi pare di capire capisco sindaco che lei dice noi non ci possiamo permettere di andare oltre quelle che sono diciamo le organizzazioni internazionali ma ci mancherebbe altro ma io penso che questo non avvenga quello che forse avverrà nel momento in cui il funzionario del ministero prenderà in mano questo documento dirà beh insomma Nogara la pensa così Isola della Scala uguale Cerea pure cioè quindi si fa una massa critica che va contro l'alimentazione del conflitto e dei bombardamenti sia da una parte che dall'altra quindi penso che lo spirito senza altro sono sicuro lo spirito da parte nostra era questo e penso che si sia capito in mezzo a questa confusione che c'è stata qualche istante fa quindi invito a prendere lo spunto che è arrivato da questa parte politica ma non perché è la minoranza perché è giusto condividere i punti di vista grazie prego altri interventi prego Zalda Perini allora Flavio sai che sono sempre in disaccordo con Vittoria soprattutto di recente l'ho firmata perché non è ideologizzata e penso che non l'avrebbero firmata neanche Marconcini e Montemezzi se fosse stato così perché è chiaro che siamo talmente lontani politicamente che non l'avrebbero firmata ti giuro Flavio che non è ideologizzata rileggi quella parte lì ma comunque secondo me se può servire per placare gli animi Vittoria si può impegnare a toglierla dai social si può impegnare a toglierlo dai social se può servire per approvarlo per integrarlo lo so lo so lo so lo so Vittoria ho capito la tua richiesta lo so Vittoria ok allora ti ho chiesto un'altra cosa sei disposta per andare incontro un po' la maggioranza toglierlo dai social e loro magari ci verranno incontro e integreranno quella parte lì che abbiamo firmato tutti ma noi sui social possiamo mettere tutta quanta la delibera e condividerla con unione di intenti della maggioranza e della minoranza togliendo il simbolo ok allora può andar bene così Flavio può andar bene togliendo il simbolo e integrando quella parte lì oppure togliendola dai social l'integrazione sarebbe da dobbiamo ricostruire lo spazio ok no 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 ferma che lì e lo integriamo con l'ultimo capoverso da dobbiamo ricostruire lo spazio lo inseriamo lo inseriamo nelle premesse spero perché anche si capisce il segretario prima di consiglio comunale sì come ultimo punto della premessa mettiamo questo giusto? no si 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 lo mettiamo beh dove io direi di emendarlo mettendo quel ultimo paragrafo all'interno delle premesse quando è scritto permesso che è la Costituzione della Repubblica Italiana dopo si arriva in fondo si dice è necessario intervenire in termini di cooperazione internazionale e poi si mette anche quel capoverso lì tra le premesse fondanti diciamo della proposta potremmo fare così allora vi è l'originale ho fatto così un segno e si inizia da praticamente da sotto negoziare negoziare anche tanto ok? va bene? no siccome le firme sono le vostre vi faccio vedere quello che ho fatto con la mia penna ecco da sotto negoziare negoziare dobbiamo dobbiamo ok? lo inseriamo prima di consiglio comunale dopo Ucraina prima di consiglio comunale lì in mezzo come ultimo come ultimo punto delle premesse l'avete la delibera lì con voi? quando c'è scritto ultima premessa è necessario intervenire in termini di cooperazione internazionale per scongiurare la prevedibile catastrofe umanitaria e poi mettiamo quest'altra premessa di questo ultimo capoverso inseriamo lì dentro va bene? ok? giusto perché abbiamo filologico almeno dopo la chiudiamo con un documento che è condiviso e che dà anche un'immagine di compattezza del consiglio comunale anche verso l'esterno e penso che tutti i cittadini siano esatto va bene insomma trattando mediando si arriva sempre a un punto di incontro ok allora riprendiamo la parte ufficiale ok? la segretaria adesso ci dice come votare prego allora prima votiamo questo emendamento allora votiamo questo pezzo del vostro comunicato come emendamento lo rileggiamo di nuovo oppure lo avete già ok? beh lo leggo a tutti che allora vabbè dai allora procediamo alla votazione del documento ah scusa dell'emendamento prima allora procediamo alla votazione dell'emendamento quella parte lì che poi verrà inserita nella delibera che votiamo dopo sì dopo noi adesso non lo possiamo fare perché non abbiamo il computer ma praticamente verrà fatto lo mettiamo anche sulla nostra bacheca di internet non lo so insomma domani voi lo copiate se volete metterlo anche sulla vostra io direi a questo punto non so se Marco ha ragione perché se è il primo che viene fatto o meno lo divulghiamo anche nella chat di sindaci come esempio da portare anche negli altri consigli comunali ok allora procediamo con la votazione cioè emendamento favorevoli unanimità procediamo con la votazione del documento emendato favorevoli unanimità appena pronto non so se avete bisogno ecco lo sistemiamo da domani insomma lo trovate disponibile questa qua allora non è più vabbè insomma la metto qua ma domani no 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 no